Buonasera e ben ritrovati sulla scea di quello che è stata la Coppa 27 a Charme Shake. Continuiamo ad analizzare tutti gli aspetti del clima, in parte teorici, in altri punti di vista pratici. Perché? Perché ci sono delle scadenze che ha messo un po' la politica, sono state date, ma il clima non ha bisogno di date, perché dobbiamo fare qualcosa già oggi, anzi, dovevamo farlo già ieri. E allora continuiamo a parlare, a discutere, per poter fare un cambio di rotta, nella vita di tutti i giorni e perché no, anche più a livello globale di paesi e di continenti. Per questo do la buonasera, ben ritrovato al professore dell'Università Nicolò Cusano, Maxiano Melotti. Buonasera. Buonasera, prof. E con piacere ritroviamo anche Luca Iacoboni del Team Tank Eco. Buonasera, buonasera a voi. Ciao Luca. E allora, io parto da Luca Iacoboni che è stato proprio a Charme Shake con appunto la sua azienda, la società. Luca, abbiamo fatto secondo te dei passi in avanti in questa Coppa 27 rispetto a quella dello scorso anno. Come possiamo cambiare? Io ho detto che ci sono delle date, l'agenda 2030 è uno di questi, nel 2035 si parla anche di smettere anche i motori termoidraulici, quindi insomma quelli a scoppio per passare quelli a benzina. Insomma, delle date sono state poste. Secondo te, ecco, a livello globale, ti chiedo le tue impressioni su quello che si è svolto a Charme Shake? Beh, ecco, in quanto Team Tank per il clima ha seguito tutti i negoziati in loco. Io li ho seguiti in realtà dalla nostra sede italiana e appunto una delegazione è andata invece a Charme. La sensazione, tanto qui in Italia quanto in Egitto, è che qualche passo in avanti si siano fatti, ma certamente insufficienti. È stato un negoziato che è andato avanti a lungo, che è andato avanti oltre i termini inizialmente previsti dalla Coppa, cosa che accade spesso, ma non sempre è un buon segno. La sensazione è che la politica, intesa nel senso più globale del termine, è ancora stenti fortemente a riconoscere una crisi, quella climatica, che sta già mettendo in discussione non solo la stabilità ambientale e tutti gli impatti che vediamo, ma anche l'economia, l'occupazione e anche tante questioni sociali. Gli impegni presi a Charme non sono sufficienti, si guarda già la Coppa 28, però ormai sono un po' troppi anni che si chiude una Coppa e si guarda quella seguente come quella dove dirimere le controversie. È ora che queste controversie vengano risolte immediatamente nell'interesse di tutti noi. Sto subito a fare una domanda strategica politica. Non abbiamo avuto la Cina, non abbiamo avuto gli Stati Uniti, insomma due paesi da niente. Nel senso, a quanto riguarda ovviamente la femistica, lo sto dicendo, è pretestuosa. Perché? Perché ovviamente sono le due grandi assi portanti a quanto riguarda il clima, soprattutto tutto quello che riguarda oggi la Cina che sta investendo tanto, e sta mettendo mano anche su tutte le materie prime che abbiamo visto da Pakistan e da Afghanistan insomma vengono un po' meno e allora si guarda sempre più verso l'Africa. Ecco, è stata una Coppa priva degli elementi portanti secondo te? Ma io direi che gli elementi c'erano nel negoziato. Abbiamo visto paesi produttori di petrolio e gas, ad esempio, che hanno ostacolato con successo purtroppo un accordo intorno alle emissioni. Abbiamo visto i paesi cosiddetti più vulnerabili richiedere con forza, anche qui fortunatamente con successo, la creazione di un fondo per perdite e danni, il cosiddetto loss and damage. Abbiamo visto un ruolo dell'Unione Europea che ha cercato di essere proattiva come non aveva sempre fatto negli ultimi negoziati. Proviamo a dare qualche più e qualche meno. Sicuramente di positivo si è portata a casa proprio l'istituzione di questo fondo su perdite e danni che servirà per supportare i paesi più colpiti già oggi dai cambiamenti climatici. Parte negativa di questo racconto è che sono ancora tutta da chiarire chi effettivamente verserà questi soldi e chi potrà usufruirne, nonché le quantità. Di positivo possiamo aggiungere che per la prima volta sono state menzionate esplicitamente le energie rinnovabili nell'accordo di chiusura del Summit. Da qui in avanti però occorre anche menzionare qualcosa di negativo che purtroppo c'è ed è enorme. Non si è trovato un accordo intorno alla riduzione delle emissioni. Le cosiddette politiche di mitigazione non hanno trovato uno sbocco né come picco delle emissioni né come proposta che era supportata dall'India di allargare la diminuzione nell'uso dei combustibili fossili non solo al carbone ma anche al petrolio e al gas. Questo è abbastanza inaccettabile per un Summit che deve parlare di clima perché i colpevoli si conoscono ed è bene mettere sul piatto degli obiettivi e il riconoscimento del fatto che bisogna azzerare queste emissioni. Dove stiamo andando? Qual è la direzione? Sembra che la teoria è una cosa, la pratica poi è un'altra come anche ha sottolineato Luca Iacoboni. Sì, sono d'accordo. Il problema è che spesso queste grandi convention internazionali sono operazioni di facciata. Poi è chiaro, sono anche gli unici momenti, anche gli unici strumenti in cui davvero i paesi possono dialogare e impostare o rivedere le proprie politiche. Però è chiaro che non è che siano queste cop a risolvere il problema. C'è tutto un lavoro che deve essere condotto prima, al di fuori. Cioè è quello che accade tra una coppa e l'altra che poi determina il successo o l'insuccesso di questi incontri. Che poi quando arrivano sono essenzialmente dei grandi palcoscenici dove i paesi mettono in scena delle proprie narrative. Comunque nessuno dei paesi partecipanti è contrario alla sostenibilità. Tutti fanno a gara a spiegare quanto sia importante modificare le politiche, salvare il pianeta. Poi di fatto nessuno è veramente disposto a intervenire per modificare la propria politica industriale, per cercare di impostare nuove politiche energetiche a costo però magari di rallentare la crescita del paese. E credo che il problema sia proprio questo. Cioè mentre, non so, fino a una decina di anni fa queste copp erano ancora qualche cosa, non di nuovo però di interessante, in cui potevano ancora essere degli spazi reali di negoziazione di politiche. Certo c'era un'errata percezione della velocità del cambiamento che sembrava comunque lontano, quindi non c'era questa esigenza del cambiamento immediato. Però i paesi si stavano in qualche modo accordando, avviando verso politiche più sostenibili, investendo tutti su energie alternative, dando contributi al proprio sistema industriale per modificare le pratiche. Agli stessi Stati Uniti ci hanno avuto una fase di grande apertura alla reimpostazione delle politiche industriali. Poi però abbiamo avuto una serie di crisi globali che hanno rimesso in discussione tutto e quindi l'emergenza climatica è passata in secondo piano. Ecco, cioè noi usciamo da due anni di Covid, abbiamo in più una guerra, comunque che non è una guerra regionale, ma qualche cosa che riguarda l'assetto geopolitico planetario, sto parlando dello scontro tra Ucraina e Russia, e in questo contesto tutto il resto è passato in secondo piano e non ci sono paesi che davvero hanno la voglia di mettere in gioco la propria crescita economica per accogliere alcune richieste degli ambientalisti. Questo alla fine è il problema e non ne usciremo in fretta. Allora, dice Luca Iacoboni, dice il professor Melotti, dice che nessuno ha voglia di cambiare, a parte fanno un po' sorridere anche questi ambientalisti che in questo periodo storico così difficile vanno nei musei e i musei diventano teatro, luogo di proteste con l'imbrattamento di alcune opere d'arte di valore inestimabile, ma non dal punto di vista economico quanto della nostra storia. Beh, non è proprio così. Su questo vorrei spiegare una lancia a favore degli ambientalisti. Eh, prego, prof. Poi non è che a fronte di tutto questo poi ce la prendiamo con i poveri ambientalisti. No, mi fa specie che perché in un museo? No, certo. Dice, noi dobbiamo continuare a prendercela con i grandi inquinatori che siamo noi, siamo noi come paesi, non sono i poveri ambientalisti. No, no, no. Ma io non so che diciamo ambientalisti in quanto tale che ha diritto di protestare, ma perché proprio contro un'opera d'arte dentro un museo. Sì, però questo è un tema interessante che potremmo anche in un'altra occasione approfondire. Però, se fate il caso, fino adesso sono stati molto attenti a non danneggiare le opere. Cioè, quindi sono delle iniziative magari un po' estreme, sicuramente non esemplari, che però funzionano perché creano attenzione, attivano l'attenzione dei media che altrimenti ignorerebbero totalmente questo movimentismo di base. E le opere comunque sono protette perché sono state attaccate soltanto a delle opere protette dai vetri. Ecco, e infatti l'iniziativa lanciata ieri dal Ministro della Cultura è veramente sciocca perché questa idea di proteggere tutto il patrimonio patrimonio artistico italiano con i vetri è veramente tipica di una persona che non ha capito come stanno le cose a parte i costi, a parte i problemi che possono creare i vetri sulle opere d'arte, eccetera, eccetera. perché il problema non è quello assolutamente. C'è sempre un po' di ipocrisia da parte nostra. Ecco, cioè, appunto, non so, ce la prendiamo con il Qatar perché non rispetta i diritti umani, però non è che noi siamo un grande esempio. Intanto negli Stati Uniti c'è stata l'ennesima sparatoria contro dei gay. cioè, vuoi dire, abbiamo noi come grandi paesi industriali, come i paesi guida del pianeta tutta una serie di responsabilità e di pecche su cui non riflettiamo mai abbastanza ma alla fine ce la prendiamo sempre con gli altri. Con gli altri. Anche in questo caso se la COP, se questa grande conferenza sul clima non è andata benissimo, non ha portato grandi risultati, comunque non è colpa dei cattivi egiziani che inquinano dei cattivi russi che sono sempre cattivissimi o dei cattivi americani, c'è anche colpa nostra, vuoi dire, anche di un'Europa comunque un po' indebolita, un po' in crisi che comunque oggettivamente fa moltissimo per... Volevo, no, professore, un attimo solo, volevo andare da Luca Iacomoni perché insomma volevo prendere spunto dalle sue parole proprio sull'Europa, dicendo che sono in pochi i paesi. Ecco Luca, l'Europa come si è comportata in questa COP 27 e secondo te qualche paese magari virtuoso soprattutto del nord Europa c'è oppure insomma siamo ancora la strada è ancora lunga per tutti? L'Europa si è comportata come Unione Europea meglio tra virgolette di come avesse fatto negli ultimi summit sul clima, è stata più proattiva, più presente nei negoziati con delle proposte, con delle posizioni chiare. probabilmente arrivava anche abbastanza forte del fatto di aver accordato almeno a livello comunitario alcuni obiettivi che menzionavate anche prima per esempio l'abbandono dei motori a combustione interna al 2035, alcuni obiettivi sul taglio delle emissioni. Ovviamente tutto questo non è bastato e come diceva il professore non possiamo sempre pensare che agli altri inquinano di più, agli altri devono fare di più perché questi negoziati sono dei meccanismi complessi in cui ci si deve accordare intorno alla riduzione delle emissioni in cui ogni virgola però è importante per esempio è uscita in maniera molto forte la questione della finanza che deve essere il motore fondamentale per la transizione energetica perché questa transizione abbia degli impatti positivi a livello sociale anche in Italia dove le fasce più povere della popolazione devono essere supportate e messe in condizione di migliorare il proprio stile di vita e la propria qualità della vita e lo stesso vale per i paesi più poveri per questo è importante la creazione di quel fondo che menzionavamo prima e per chiudere una battuta sulle proteste degli ambientalisti che a questa COP sono state di meno per motivi anche logistici è fondamentale la premessa che ovviamente le opere non sono danneggiate ma è una cosa simbolica perché c'è una teca di vetro davanti e lo sapevano tutti benissimo io credo che la risposta al perché in un museo sia perché fuori dai musei non sono stati ascoltati sono andati prima nei ministeri sono andati addirittura come movimenti vari sono andati negli aeroporti sono andati addirittura sotto le case editrici dei giornali purtroppo non ci si rende ancora conto in parte anche a livello di informazione ma tanto ovviamente a livello politico e di grandi aziende che non stiamo più parlando di ambientalisti io credo che questo debba essere molto chiaro stiamo parlando di economia di posti di lavoro di università di ricerca di salute di qualità dell'aria che respiriamo di qualità della vita e di vivibilità di agricoltura in ginocchio di turismo che non c'è più allora è bene ascoltare queste persone molto prima che vadano a fare una protesta in un museo o a bloccare una strada perché in realtà tutto parte da ben lontano dai musei hai fatto un quadro che praticamente è globale è un quadro che prende veramente più aspetti più diverse tipologie della vita non c'è solo diciamo il green la sostenibilità ambientale in quanto tale ma va ricaduta su tutta una serie di settori Luca quindi è assolutamente economia finanza come hai detto tu oggi però ecco a che punto siamo cioè abbiamo fatto dei passi in avanti secondo te rispetto a qualche anno fa perché insomma l'ONU ci dice che il 2030 dovremmo o dovremo avere raggiunto questi 17 obiettivi ma in realtà siamo ancora ben lontani anche se poi qualche tuo collega dice che l'Italia insomma forse in alcuni settori è ben messa rispetto ad altri allora a livello globale qualche passo in avanti è stato sicuramente fatto però se la domanda è sono abbastanza la risposta è assolutamente no dobbiamo accelerare e dobbiamo soprattutto implementare tutte quelle soluzioni che sono oggi disponibili parlo di efficienza energetica di rinnovabili di graduale a rapido abbandono di carbone e petrolio ma anche di gas tutto questo si può fare oggi e sarebbe positivo come dicevamo prima non per il clima ma per l'economia la salute i posti di lavoro gli impatti sociali e via dicendo quando ci staccheremo dal pensare che è troppo difficile la parte finale della decarbonizzazione cioè quella che va fatta tra il 2045 e il 2050 e con questa scusa continuiamo a non agire abbastanza oggi ecco quando invertiremo questa narrativa e faremo oggi tutto quello che già possiamo fare per migliorare la nostra qualità della vita e nel frattempo sappiamo che la parte finale della decarbonizzazione può essere ancora più complessa allora andremo nella direzione giusta per dare una nota positiva in chiusura stiamo uscendo da due anni di covid non stiamo purtroppo uscendo da una crisi assolutamente globale che è quella tra Russia e Ucraina la buona notizia è che le soluzioni per il clima quando parliamo di efficienza di rinnovabili di diminuire la dipendenza dal gas e dal petrolio ad esempio stiamo parlando di soluzioni che funzionano per il clima funzionano per il conflitto armato perché è uno dei grandi obiettivi è diventare meno dipendenti non solo dal fornitore Russia ma dal combustibile gas in generale perché il gas raramente proviene da paesi molto tranquilli e sereni così come diminuire i consumi di energia è un qualcosa che non ci serve solamente a migliorare la situazione geopolitica ma anche ad abbassare i nostri consumi abbassare i nostri consumi quando e qualora il prezzo del gas e del petrolio dovesse riscendere è comunque una cosa positiva che poi in futuro rilancerà l'economia rilancerà l'occupazione allora dobbiamo metterci in testa che fortunatamente se è vero che le crisi sono tutte intercorrelate tra loro è anche vero che le soluzioni pure e la cosa positiva è che oggi esistono aspettate perché sulle crisi concatenate ci voglio tornare un attimo contento vado però dal professore all'assistitutto stava seguendo con attenzione se ha qualcosa da replicare poi voglio parlare anche del progetto Unicusano sull'idrogeno Prof Melotti mi è sembrato un quadro molto completo e condivisibile cioè dobbiamo capire che la transizione energetica è comunque uno strumento anche geopolitico deve essere pensato e vissuto con questa logica e forse sotto questa luce potrebbe essere più facile per molti stati accelerare certe politiche o aderirvi il problema è quello della politica di breve termine cioè quando ti muovi con una logica elettorale cioè quindi il tuo panorama è limitato alle elezioni alle prossime elezioni alla prossima tornata elettorale o agli effetti all'effetti immediati sulla tua economia è chiaro che non riesci invece a impostare politiche di medio termine o di lungo termine come queste che sono necessarie e questa devo dire è una fragilità particolarmente evidente per l'Italia ecco cioè noi diciamo che storicamente siamo sempre stati incapaci di costruire politiche a lungo termine ci sono sempre stati molto legati allo scenario della politica del domani e del dopodomani non quella e meno sensibili invece alla politica del futuro questo è senza l'altro un problema voglio un attimo un futuro del discorso che abbiamo poi presentato lanciato anche le scorse settimane quello dell'Università Nicolò Cusano che ha lanciato un progetto legato all'idrogeno adesso senza tornare nel dettaglio perché ne abbiamo già parlato con l'ingegnere Cariubini ci ha prospettato tutto quello che è la fase iniziale la fase 1 e poi dopo la fase 2 la parte la parte concreta ecco crediamo nelle politiche pardon l'apsus non da poco ma nelle strategie alternative nelle una soluzione diversa ovviamente l'idrogeno può essere una una nuova vita di quello di come avere nuove nuove nuova energia e da dove produrla ovviamente parte tutto dall'energia all'energia solare ecco ci vogliono questo volevo dire secondo lei ci vogliono questi progetti nati anche dalle università nati anche chiamiamola una scommessa per poter cambiare questo nostro modo di pensare cambiare la cultura no no senz'altro c'è tutto quello tutto quello che noi possiamo fare per potenziare le cosiddette energie alternative è importante e ovviamente alla base di questo c'è la ricerca scientifica e buona parte della ricerca scientifica viene condotta all'interno dell'università quindi il fatto che ci siano strutture universitarie impegnate in questa riflessione che ciascuno vuol dire ciascuno delle quali riesca a portare un piccolo contributo a questa rivoluzione generale è davvero molto molto importante giustamente come diceva prima Jacoboni transizione vuol dire anche ricerca soprattutto ricerca certo c'è la politica da un lato che è fondamentale perché poi mette in campo agevola incentiva determinate attività però la base ci deve essere ci deve essere la ricerca e questo è anche una grande risorsa per un paese come l'Italia un continente come l'Europa che è largamente post-industriale e che da decenni investe o fa possibile per investire appunto sull'alta formazione sulla ricerca scientifica quindi potremmo anche trarre un beneficio generale come sistema universitario italiano come sistema Italia come sistema Europa questo è importante Luca Jacoboni parlavamo anche di sistemi alternativi insomma so se hai un po' seguito anche la vicenda unicusano ecco l'idrogeno ricavato poi dall'energia solare da alcuni pannelli poi introdotto convertito sappiamo che non esiste in natura secondo te può essere una soluzione a lungo raggio e proposte di questo tipo vanno portate avanti per ecco poi dopo andare ad abbattere delle emissioni andare a fare una politica diversa visto che hai citato anche tu prima ancora siamo con il carbone eccetera eccetera la premessa è che la ricerca in ambito universitario ma non solamente è sempre fondamentale ed è deve essere il centro delle politiche climatiche ma anche soprattutto industriali del nostro paese detto questo come dicevate anche voi l'idrogeno non è una forma di energia ma è un vettore quindi dire idrogeno è troppo poco bisogna per quella che è la classificazione mondiale mentre c'è anche un colore l'idrogeno grigio viene dal gas ad esempio cioè brucio gas e creo idrogeno l'idrogeno verde che è quello di cui si parlava viene invece da fonti rinnovabili questo tipo di idrogeno quello verde ovviamente abbatte quasi a zero le emissioni legate al coutilizzo quello grigio ad esempio del gas assolutamente no è un modo per sostanzialmente continuare a bruciare combustibili fossili utilizzando però idrogeno quello che va detto al netto del fatto che l'idrogeno è e può essere una componente seppure non enorme anzi minoritaria della decarbonizzazione del processo di decarbonizzazione in generale è che è un combustibile che ha dei costi perché ovviamente io non prendo l'elettricità dal pannello e la utilizzo direttamente o la metto in rete la prendo e la trasformo in un qualcosa questa trasformazione mi fa perdere di efficienza cosa significa tutto questo che l'idrogeno va utilizzato e ben vengano progetti di ricerca e implementazione ma va detto in maniera chiara che va utilizzato dove non ci sono alternative più efficienti mi viene in mente ad esempio che non vorrei mai la mia auto alimentata con idrogeno perché sarebbe molto meno efficiente di un'elettrica cioè con la stessa quantità di elettricità farei molti più chilometri con un'auto elettrica e con un'auto idrogeno è pur vero che con l'elettricità non riesco ad oggi ad alimentare il processo produttivo di una grande industria come può essere l'exilva ad esempio un comparto comunque fondamentale per l'economia italiana e lì sì l'idrogeno verde può giocare e deve giocare un ruolo importante la cosa fondamentale è che non diventi una cartina al tornasole per cui mi riferisco alle grandi aziende energetiche la utilizzano come motivo per continuare a bruciare quel gas e quel combustibile fossile in generale che è restato e è tuttora responsabile della crisi climatica quindi idrogeno si perde Luca ne voglio scusate un secolo così almeno discutiamo un attimo su questo allora è stato presentato un progetto si pone l'obiettivo vado a leggere anche ad alcuni punti di realizzare in un paese del nord Africa come l'Egitto un sistema di produzione di elettricità fotovoltaica quindi alimentato da energia solare che possa beneficiare dell'elevato livello di insolazione e della disponibilità di terreno praticamente illimitato questa energia elettrica rinnovabile è previsto che venga trasferita alla dorsale di trasmissione principale del paese fino al porto di Alessandria dove è previsto l'utilizzo dell'energia elettrica per produrre idrogeno utilizzando elettro rizzatori di protologia PEM una parte dell'energia elettrica a rete dell'idrogeno sarà disponibile al paese ospitante mentre la maggior parte sarà portata tramite un gasdotto praticamente esistente il Green Stream scusate che unisce l'Italia all'Egitto questo è il progetto idrosiero l'idrogeno sarà trasferito in una forma gassosa ad utenti esistenti nel sud dell'Italia in particolare per alimentare lo stabilimento e acciaieria d'Italia riducendo l'emissione di CO2 cioè come diceva Luca Iacoboni l'ex ILVA che sta parlando Luca o il professore Luca sì è esattamente ecco l'idrogeno utilizzato in quell'ambito è esattamente un tipo di uso efficiente dell'idrogeno siccome è difficile produrlo il concetto è va utilizzato solo dove è strettamente necessario l'unica altra distinzione che si può fare a beneficio di chi ci ascolta e ci guarda è specificare che in questo caso l'idrogeno viene prodotto in Egitto e trasportato in Italia c'è un'alternativa che è quella di trasportare l'elettricità direttamente in loco e produrre ad esempio l'idrogeno direttamente all'Exilva ci sono pro e contro sembra un pochino più efficiente questa seconda ipotesi quella di trasportare elettricità più che idrogeno ma per un motivo anche di costi è da capire se la rete gas è completamente a idrogen ready come si dice e se servono investimenti bisogna semplicemente fare un ragionamento economico l'importante è capire che una risorsa va utilizzata dove necessario chiudo dicendo rispetto anche a quanto veniva detto prima che è vero che l'Italia ha storicamente un po' un problema a fare politiche di lungo periodo purtroppo non solo sull'energia guardiamo l'industria dell'agricoltura nel nostro paese è vero però anche purtroppo che tante aziende di Stato e il governo e lo Stato italiano inclusi prendono spesso accordi di lungo periodo ed è successo di nuovo sul tema energia a valle della crisi ucraina sulla crisi concatenata puoi rimanere qualche altro minuto così ne parliamo sulla crisi concatenata ci volevo tornare e noi dobbiamo andare in pausa io saluto e ringrazio per la disponibilità visto che ha altri impegni il professor Maxiano Melotti grazie prof alla prossima grazie a voi grazie grazie buona serata rimanete con noi andiamo poco poco in pausa crisi concatenate stavamo parlando di nuovo buonasera ben ritrovato Luca Iacoboni di Ecco allora Luca stavamo dicendo delle crisi concatenate ne parlavamo anche le settimane precedenti con il direttore di Qualenergia e il discorso delle crisi non è mai una fine all'altra ma la crisi energetica la crisi economica la crisi anche politica è una guerra che ha scatenato altri tipi di di crisi e quindi i prezzi salgono quindi il discorso ovviamente economico a cascata diciamo mondiale perché poi dopo l'abbiamo vissuto le croneche l'abbiamo sentito abbiamo visto le navi che partono dai porti con il grano i prezzi che salgono e della benzina e anche dello stesso il cadello della spesa sale insomma tutto è collegato quindi mi faceva piacere concludere con te questa parte in cui ecco adesso l'ho un po' resa un po' più aperta come domanda però tu stavi stavi dicendo ovviamente delle crisi concatenate anche sul clima ma dunque sì che le crisi appunto siano concatenate è un dato penso abbastanza ineludibile la cosa positiva che menzionavo prima è che lo sono anche le soluzioni concatenate quello che secondo me è opportuno fare è prima chiarire una cosa quella che per tanti è crisi non lo è per tutti c'è chi da questa crisi ci guadagna non è diciamo un dato ignoto il fatto che gli utili delle aziende oil and gas siano schizzati in alto triplicando quadruplicando decuplicando anche delle aziende italiane proprio nel periodo di crisi naturalmente quindi la prima cosa che secondo me deve essere chiara è che ci sono delle motivazioni su tante crisi ma all'interno di queste crisi c'è anche chi ci guadagna ed è lì che bisogna anche andare a indagare per capire non per forza lo fanno in mala fede ma bisogna sapere che questo accade e poi secondo me c'è una cosa molto importante da evitare che stavo citando prima non si può ragionare sulla crisi prendendo impegni di lungo periodo come se la crisi durasse per sempre immaginiamo per esempio di mettere l'obbligo di lockdown per cinque anni beh no non è certamente una cosa pensabile anche in tempi di covid si valuta momento per momento l'energia non è proprio così semplice ovviamente perché ha delle tempistiche peculiari però quello che bisogna evitare è che quello che invece purtroppo il precedente governo ha fatto e questo si sta ancora capendo che direzione voglia prendere è quello di prendere impegni di lungo periodo ricordiamo penso tutti i viaggi fatti in Africa per fare degli esempi firmando accordi di lungo periodo di cui non si conoscono i dettagli per motivi diciamo tendenzialmente decenni ad acquistare gas a cifre abbastanza alte da questi paesi ad esempio questo perché per fronteggiare ovviamente una scarsità momentanea qual è il problema è un po' come se andassimo a fare la spesa al supermercato quando abbiamo fame rischiamo di comprare un sacco di cose anche di esagerare anche cose molto costose oppure troppe cose questo è esattamente quello che è accaduto e che rischia di continuare ad accadere la domanda di fossili di gas è destinata a scendere in tutte le proiezioni europee mondiali dell'International Energy Agency e con questo bisogna fare i conti e così come il costo dell'energia è destinato a scendere magari non in una settimana non in un mese non in un tre anche se è già sceso ma è destinato a scendere quindi ha senso oggi impegnarsi così con contratti di lungo periodo in un momento in cui il mercato spinge tutto verso l'alto e la risposta è no bisogna tamponare e puntare su soluzioni strutturali per questo noi come Think Tank in Ecco abbiamo spinto tanto per efficienza energetica e risparmio a fianco alle rinnovabili perché sono misure che usciti dalla crisi rimangono positive impegnarsi invece in nuovi acquisti di lungo periodo rischia di essere un qualcosa di negativo per le nostre imprese e per le nostre famiglie quindi guardare a medio raggio non a lungo raggio cioè tamponare l'emergenza adesso per poi dopo ripartire subito dopo vado a toccare un altro tema con te sul insomma se ne è discusso al G20 in cui i paesi si sono dati ancora un appuntamento i famosi appuntamenti però si vuole un po' mantenere quelli che sono stati gli accordi famosi di Parigi soprattutto sul rispettare il limite di 1,5 gradi noi sappiamo che negli ultimi 10 anni la temperatura ha aumentata molto di più rispetto agli ultimi 100 e quindi si andrà sempre peggio dobbiamo mantenerla questa soglia ecco ce ne parli un po' meglio insomma che cosa si è detto in questo caso? Ma questa soglia va ricordata da dove arriva arriva dalla comunità scientifica che è sostanzialmente unanime nel dire che è la soglia massima che bisogna anzi che non bisogna raggiungere per evitare che le conseguenze dei cambiamenti climatici diventino sempre più devastanti e irreversibili intorno a questo c'è stata non solo un'unanimità scientifica ma anche sostanzialmente diciamo un accordo politico il problema è che rispetto all'obiettivo rispetto all'intento non si sono messi in campo né impegni né strumenti che ci portino da quelle parti anche gli ultimi summit COP G20 G7 confermano l'esistenza di questo obiettivo anche l'ultima COP di cui prima abbiamo parlato salva diciamo così il 1.5 l'1.5 il problema resta che a valutare quelle che sono le promesse o gli impegni a seconda dei parametri che si vogliono utilizzare o si sforano i 2,5 gradi o si sforano addirittura i 3 e questo è qualcosa di estremamente grave non dobbiamo pensare che sia mi dispiace se mi ripeto qualcosa che riguarda l'ambiente quelle immagini che stiamo vedendo adesso non sono ambiente sono città vivibilità vita quotidiana sono raccolti agricoli che vanno completamente a male sono scuole che vengono chiuse sono uffici che non sono raggiungibili mezzi di locomozione che non si possono utilizzare sono pericoli per la vita umana dobbiamo capire che parliamo di una emergenza in termini anche di sicurezza delle città dei posti di lavoro dell'economia e della salute allora questo 1,5 se è vero che è una delle poche situazioni in cui la scienza ha sostanzialmente un'unanimità intorno a questa soglia è bene che politica aziende e anche ovviamente cittadini vadano seriamente in quella direzione non è pensabile e concludo che il decennio 2020 2030 sia quello decisivo per il clima che se non agiamo abbastanza oggi poi dopo il percorso diventa tanto accidentato da essere quasi impercorribile beh non è pensabile che oggi la politica non trovi una quadra e alcune aziende anche italiane legate al settore del petrolio e del gas prevedano di aumentare addirittura la produzione di combustibili fossili grazie a Luca Iacoboni di Ecco Luca veramente sempre disponibile professionale io saluto te anche tutto insomma Ecco come Team Tank che è sempre vicino a noi e ci dà delle facilitazioni importanti su dove stiamo andando e come stiamo vivendo grazie a voi è un piacere buon proseguimento grazie cambiamo argomento e Dola buonasera ben ritrovato Fabrizio Santori della Lega buonasera buonasera benvenuti a tutti grazie grazie mille buonasera come detto allora parliamo del nuovo termo valorizzatore di Roma Lama ha approvato l'acquisto del terreno a Santa Palomba nella zona sud diciamo della capitale passo in avanti per la realizzazione di questo termo valorizzatore per smaltire i rifiuti della capitale il CDA di Ama questo è risalente ovviamente a qualche settimana fa una municipalizzata dei rifiuti ha approvato l'acquisizione di questo terreno di circa 10 ettari a sud di Roma nel nono municipio al confine con Pomezia e Albano Laziale bruciarà 600 mila tonnellate di rifiuti l'anno per creare energia allora Santori com'è la situazione nella capitale ovviamente con l'andata un po' in fumo uso un po' questa parafrasi del TMB salario adesso non sto a entrare nel merito come e perché però insomma Roma ha bisogno di cambiare passo di cambiare marcia ecco come può cambiare marcia secondo lei può questo termo valorizzatore risolvere i problemi? Assolutamente sì noi siamo favorevoli però vedo delle cose troppo strane in questa amministrazione tanto stanno arrivando la tassazione sui rifiuti è la tassa più alta d'Italia da Tari per i romani proprio in questi giorni sono arrivate le bollette per un servizio che non esiste pulizia delle strade o meglio diciamo la raccolta dei rifiuti tutto ciò che riguarda lama è assolutamente deficitario e insufficiente i romani sono cittadini che pagano servizi che non hanno e quindi stanno chiedendo un intervento immediato dell'amministrazione amministrazione Gualtieri che ha chiesto al governo di avere dei poteri speciali per realizzare il termovalorizzatore noi siamo assolutamente favorevoli perché crediamo che l'unica soluzione in questo momento sia quella appunto di creare energia con i nostri rifiuti invece che cosa accade e accadrà purtroppo nei prossimi mesi e nei prossimi anni fino a quando non si realizzerà un termovalorizzatore e che i nostri rifiuti vanno all'estero in altre regioni e altre regioni con i nostri rifiuti creano energia ma non solo noi paghiamo per tutto questo ecco perché abbiamo la tassa sui rifiuti più alta d'Italia oltre alla disorganizzazione dell'ama non è presente nessuno spazzino non c'è attenzione sulla presenza dei cestini della raccolta dei rifiuti insomma tutto è assolutamente abbandonato allora che cosa fa l'ama acquista un terreno per realizzare il termovalorizzatore lo ha pagato 7 milioni e mezzo di euro pensate otto anni fa nove anni fa abbiamo gli atti l'abbiamo denunciato coloro che hanno venduto a 7 milioni e mezzo di euro questo terreno lo avevano acquistato a 700 mila euro quindi immaginate quanto è stata esuosa la richiesta e quanto ha pagato l'ama quindi la vergogna di questa situazione è che c'è una speculazione anche su uno strumento un impianto che dovrebbe salvare tutti i cittadini romani e questo viene permesso dall'amministrazione Gualtieri dall'assessore Alfonsi c'è oggettivamente un problema legato anche alla grandezza del territorio nel terreno che è stato acquistato di 10 ettari pensate quello di Brescia con 16 ettari brucia 500 mila tonnellate l'anno di rifiuti Roma con 10 ettari cioè inferiore in termini di spazio dovrebbe bruciarne 600 mila infatti le stavo proprio chiedendo ma basta perché con anche andata in fumo di un altro dmb quello di Malagrotta i problemi sono sicuramente aumentati e lei ha anche detto che il fatto che siano andati insomma vadano fuori i rifiuti c'è poi la gara che a metà del prossimo anno verrà lanciata e solo nel 2025 mi sembra verrà realizzato questo impianto quindi stiamo parlando tra tre anni almeno sì questi sono i tempi non è che abbiamo problemi su questo perché purtroppo non si è partito in ritardo anche l'amministrazione Gualtieri aveva bocciato un nostro ordine del giorno come Lega l'unico partito insieme a Calenda che ha presentato un ordine del giorno chiedendo a Gualtieri di realizzare il termo analizzatore a gennaio fu bocciato dalla maggioranza di centro-sinistra poi successivamente Gualtieri si è ripresentato in aula cambiando idea e volendo questo termo analizzatore e noi l'abbiamo sostenuto però bisogna fare le cose fatte bene perché non è possibile speculare su questa vicenda e non è possibile realizzare una cattedrale poi che rimarrà nel deserto perché se non riuscirà davvero a coprire quelle che sono le esigenze della città ripeto il terreno è troppo piccolo rispetto a quello che avviene in altri spazi poi non ci sono movimenti logistici dei mezzi non c'è la possibilità di smaltire realmente il rifiuto cioè tutto questo fa parte di azioni che devono essere fatte preventivamente per realizzare nei tempi giusti il termovalorizzatore cioè nel 2025 come ha detto Gualtieri cioè all'inizio del giubileo però a mio avviso ne servirà un altro ne serviva uno più grande cioè come può avviare la capitale a questo annoso problema no i conti su quello che sono i 600 mila tonnellate che devono essere smaltite sono stati fatti bene il problema è trovare un terreno dove realizzare un termovalorizzatore che possa smaltire questa portata di rifiuti ogni anno quindi il tema è che il terreno ad oggi risulterebbe acquistato è troppo piccolo rispetto alle esigenze reali quindi o si compra un altro terreno e poi ripeto è stato pagato 7 milioni e mezzo di euro quel terreno ha i fossi deviati quel terreno è mezzo industriale è mezzo agricolo quindi andranno fatte delle operazioni di variante urbanistica cioè tutto questo si può fare però ha dei tempi e a mio avviso se continua in questo modo cioè dall'approvazione del termovalorizzatore ad aprile del 2022 all'acquisizione del terreno che è avvenuta a settembre sono passati mesi solo per acquistare il terreno cioè non mi sembra che questa amministrazione abbia le idee chiare poi ha una parte della maggioranza contro che ha votato appunto contro l'autorizzazione del termovalorizzatore quindi sono due gruppi politici in Campidoglio che non sono d'accordo una parte non era d'accordo in regione con Zingaretti dove ricorderemo che il Movimento 5 Stelle si era alleato con Zingaretti aveva votato contro il termovalizzatore anche a livello nazionale con Conte e il Movimento 5 Stelle parlamentare quindi tutto questo fa parte di un caos generale che questa amministrazione sta vivendo però in parte va avanti con queste operazioni immobiliari che oggettivamente non ci quadrano ecco noi abbiamo chiesto anche dettagli un accesso agli atti ancora non ci è stato dato dopo dieci giorni quindi c'è qualcosa che non va e noi vogliamo vederci chiaro non per bloccare l'iniziativa non per bloccare un'esigenza reale della città di Roma ma per non speculare per non fare come è avvenuto negli anni quello che appunto succede purtroppo a Roma e cioè che quando servono le cose effettive per la città di Roma si creano sempre delle ombre delle situazioni particolari che poi bloccano tutto e allora in Italia si dice a Roma non si riesce mai a fare nulla perché? perché queste sono le amministrazioni che negli anni si sono succedute e hanno appunto realizzato non realizzato quello che realmente e poi dopo alla fine va tutto a inficiare sui cittadini e come abbiamo detto lo sappiamo perché viviamo nella capitale insomma la Tati è la più alta d'Italia e quindi poi dobbiamo pagare noi di tasca nostra il fatto di portare comunque fuori dalla capitale i rifiuti o anche addirittura all'estero che comprano insomma da noi e hanno anche un beneficio quello della produzione insomma di energia staremo a vedere monitoreremo la situazione grazie Fabrizio Santori buon lavoro grazie 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 allora parlavamo di ambiente parlavamo di clima come anche in questo periodo i cambiamenti sono repentini dieci giorni fa eravamo insomma a maniche corte ma una temperatura più alta del normale nel giro di dieci giorni sono crollate vertiginosamente anche le le temperature grazie a vedere questo servizio che ha realizzato anche lega l'ambiente di come stiamo vivendo negli ultimi anni ed è proprio di questi cambiamenti repentini solo solo nei primi dieci mesi del 2022 in Italia ci sono stati 254 fenomeni meteorologici estremi il 27% in più di quelli dell'intero 2021 negli ultimi 13 anni dal 2010 sono stati 1503 colpendo 780 comuni e causando 279 vittime allagamenti da piogge intense grandinate esondazioni trombe d'aria che in 531 casi hanno provocato blocchi a infrastrutture come treni urbani e metropolitane la fotografia preoccupante emerge dal report il clima è già cambiato dell'osservatorio città clima 2022 realizzato da lega ambiente con il contributo delle gruppo unipol e diffuso nel giorno finale della cop 27 la regione più colpita è stata la sicilia con 175 eventi meteorologici estremi seguita da Lombardia con 166 Lazio con 136 Puglia Emilia Romagna Toscana e Veneto ad andare in sofferenza soprattutto le grandi città a cominciare da Roma dove ci sono stati 66 eventi 6 solo nell'ultimo anno di cui oltre la metà allagamenti a seguito di piogge intense seguono Bari Agrigento e Milano con 30 eventi e almeno 20 esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro e diamo la buona sera e benvenuto a Maurizio Albrizio responsabile dell'ufficio stampa europeo proprio di Legambiente buonasera e benvenuto buonasera e grazie a voi ecco parlavamo appunto di Legambiente insomma questo è un servizio i dati che avete che avete fornito parlavamo anche sì del termo valorizzatore della della capitale insomma Albrizio siamo veramente in una situazione precaria dobbiamo fare fare in fretta io ho parlato di temperature che sono controllate in tutti i dieci giorni insomma non è non è un caso che viviamo questi cambiamenti climatici repentini da una stagione all'altra che che praticamente un po' non ci fanno capire più nulla no? anche per come ci dobbiamo vestire ecco com'è la situazione oggi di questo clima che sta che sta impazzando dobbiamo fare qualcosa a noi e lei che insomma ovviamente ha un'ampia vista su tutta l'Europa allora questo è un tema centralissimo del confronto internazionale esatto arrivo dalla conferenza sul clima che si è che ha terminato ieri a Sharma el Sheikh la Copp 27 dove la questione dei eventi estremi dovuti ai cambiamenti climatici è stata al centro del confronto e dopo 30 anni di discussione ha portato all'istituzione di un fondo per aiutare i paesi più poveri e vulnerabili ad affrontare disastri climatici come appunto a quelli che abbiamo visto nel nostro paese ma soprattutto nelle realtà più esposte da ultimo il Pakistan dove abbiamo avuto 3 milioni di sfollati lo scorso gennaio oltre 1500 morti e danni per 30 miliardi affrontare l'emergenza climatica e il tema globale su cui tutti i grandi del pianeta si stanno confrontando e su cui l'Europa e l'Italia devono assumere una posizione di leadership Stavamo parlando anche dei problemi che abbiamo in Italia il tema valorizzatore di Roma è uno di questi anche il tema dei rifiuti delle grandi città all'estero ce l'hanno questo problema o siamo solo noi in Italia che non riusciamo magari a ottimizzare le risorse ad avere tanti TMB per poter produrre energie alternative in Europa è stata la scelta del passato non quella del futuro il futuro è l'economia circolare il futuro è la raccolta differenziata con impianti adeguati per arrivare a rifiuti zero questa è la scommessa che in tutta Europa stanno che l'Europa e i paesi più all'avanguardia in Europa stanno giocando e che anche l'Italia e Roma deve giocare e quello io parlavo con i suoi colleghi anche nella capitale Dono Suosu che poi è il filone dell'ultimo collegamento del TMBD a Roma che sarà realizzato nel 2025 ma praticamente per l'Europa è già vecchio per le dimensioni per la capacità e per quello che andrà a produrre il rapporto alla popolazione ce ne stava parlando proprio Fabrizio Santori prima è così? Lei ne ha sentito parlare? Certo perché noi noi qui stiamo rincorrendo le tecnologie del passato anziché investire nell'innovazione e costruire il futuro abbiamo la grande possibilità che non dobbiamo lasciarci sfuggire che è quella delle risorse del piano nazionale di riprese a resilienza e su quello che dobbiamo puntare grazie agli investimenti a disposizione per costruire l'economia circolare nel nostro paese paese che ha imprese all'avanguardia su questo ma come siamo messi noi in Italia? è possibile che siamo così indietro? noi ci abbiamo nella contraddizione che abbiamo imprese che all'avanguardia dal punto di vista tecnologico che parte del loro core business sono costretti a realizzarlo all'estero non ha senso ma anche per le rinnovabili passando all'energia cioè l'Enel è il leader mondiale e in Italia per i ritardi sullo sviluppo delle rinnovabili investe soprattutto negli altri paesi non solo in Europa ma anche Stati Uniti America Latina e così via positivo che grazie alle risorse europee oggi l'Enel ha in programma a Catania in progetto a Catania il più grande impianto di produzione di tecnologia fotovoltaica in Europa che produrrà entro tre anni 3 gigawatt ecco l'Italia è attrezzata il sistema delle imprese è altamente innovativo la politica a livello nazionale regionale e territoriale deve consentire di consentire di attuare al massimo queste potenzialità voi dite stop e ritardi agli ostacoli che frenano lo sviluppo delle comunità energetiche quindi di sbloccare queste comunità l'avete detto anche davanti al diciamo a Roma davanti al Ministero dell'Ambiente in un sitino organizzato e poi quello che dicevamo anche prima che tutti questi fenomeni atmosferici che si scatenano praticamente sulla terra e su di noi provocano anche morti le due sono due situazioni che sembrano distinte ma poi in realtà non lo sono perché dobbiamo conservare questo pianeta dobbiamo cercare con le nostre politiche di conservarlo il meglio possibile e di conseguenza poi di non avere più sviluppi negativi sullo stesso clima e quindi di prevenire quelle che sono un po' queste morti certo rispetto all'ultima questione quella delle comunità energetiche subito vanno sbloccati tutti gli ostacoli burocratici che impediscono sia a livello nazionale che territoriale penso ai blocchi incomprensibili delle sovraintendenze l'avvio delle comunità energetiche comunità energetiche che sono una risposta all'esigenza dei territori per affrontare una duplice questione quella di produrre di rispondere alla crisi energetica riducendo le bollette attraverso l'autoproduzione e affrontare la povertà energetica la prima comunità energetica lanciata da Lega Ambiente a Napoli con la fondazione Famiglia di Maria ha consentito di produrre autoprodurre energia rinnovabile da fotovoltaico e rispondere alla povertà energetica azzerando le bollette di ben 40 famiglie bisognose questo è possibile in Italia senza tanti problemi ma è solo una parte della risposta l'altra risposta è che per affrontare l'emergenza climatica e ridurre le emissioni del 65% entro il 2030 dobbiamo fare anche impianti impianti fotovoltaici eolici a terra e offshore per arrivare ad almeno 90 120 gigawatt di installazione entro il 2030 questa è la sfida per quanto riguarda invece i disastri climatici che stiamo toccando con mano anche nel nostro paese va subito il governo deve subito attuare il piano nazionale di adattamento che è in via che è stato definito nel 2018 e sono ormai quattro anni che non viene adottato questo è un ritardo responsabile che aggrava i costi sia sociali che economici che sulle comunità più esposte da ultima abbiamo visto la marmolada le marche e purtroppo ce ne saranno altri dobbiamo subito intervenire subito intervenire perché i costi sono molto più alti degli investimenti necessari e ne va Maurizio Albrizio grazie grazie Mauro Mauro Albrizio grazie mille per questo tempo che ci ha dedicato buon lavoro alla prossima grazie a voi grazie a voi è stato un piacere grazie grazie Mauro Albrizio responsabile ufficio stampa europeo di lega ambiente siamo arrivati al termine di questa puntata che insomma è stata un po' incentrata ancora sui cambiamenti climatici e sul clima e sulla scia della coppia 27 torneremo a parlare anche e darvi qualche consiglio nelle settimane insomma che verranno sull'utilizzo anche di alcuni strumenti e come poter fare anche ed essere sempre più più green grazie e buon proseguimento con Cusano Italia TV ciao grazie a tutti